Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme una torta salata. Saliamo a cubetti 250 grammi di provolone piccante. Usiamo due rotoli di pasta scoglia. Dividiamo l'impasto a metà. Usiamo 140 grammi di ricotta. Mettiamo cubetti di formaggio. Mettiamo il prosciutto cotto. Mettiamo parbiciano grattugiato. Usiamo un stampo di 28 cm e mettiamo dentro la carta. A presto! 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 Grazie a tutti. Usiamo un ovo per ungere la torta. Usiamo un po' di semi misti. 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 Grazie a tutti.